Gia Raga ma che schifo, oggi è natale e piove quindi mi tocca registrare a mezzogiorno, ovvero adesso Con le luci accese e probabilmente si vedrà anche male Ad ogni modo, oggi siamo qui per aprire questo tappetino dell'aukei Alla fine ho visto che i tappetini servono raga, servono anche a qualcosa Perché una volta ne ho provato uno da un mio amico, io prima di quel giorno sarebbe stato contrario a questi tappetini Perché li vedo come una spesa inutile, è vero che tanto per trascinare un po' il mouse vai bene anche senza Poi comunque mi sono accorto che quando l'ho provato, cioè era tipo, non so, un effetto plasticoso sopra un'era gomma E quindi ti faceva tipo scivolare il mouse, andavi molto meglio Poi ti aiuta magari in quei giorni in cui c'è proprio il mouse incollato alla schivania O c'è le mani fredde, non riesce a muovere insomma, quindi è comodo E ho deciso di provarne uno anch'io, così l'ho chiesto per Natale E il tappetino in questione dovrebbe essere un 900x400mm, mi sembra dell'Auke Vi metterò il link in descrizione, se mi ricordo, ma penso anche di sì La scatola se ne va, raga, pesa tantissimo Voi vedete, tipo qua sotto ha una gomma che lo fa appunto incollare Fa una schivania, sopra è veramente straliscio Ed è gigante, ha anche distruzioni, ma veramente Ah ok, ma che c***o fai Cosa c'è sta robetta? C'è questa tesserina molto bellina C'è anche la protezione di due anni, raga, è un tappetino È ok, fa delle belle robe però È una specie di chiave metallica, non so, la vediamo dopo Intanto vado a levare tutto, metto il tappetino sul setup E faccio un prima e dopo, ci vediamo tra poco Ok, il setup per adesso è così, senza tappetino Io ho paura che occupi veramente tanto spazio Se riesco ci faccio stare sopra anche il monitor Vabbè, adesso lo sistemo e vedo un po' come metterlo Ok, ragazzi, ho stato veramente poco a metterlo Del resto bastava togliere e rimettere Devo dire che alla fine un tappetino serve Perché te lo rende veramente strafluido l'utilizzo del mouse Ovviamente il mouse lo dovete pulirlo sotto Ad esempio il mio che era lurido Ho dovuto levare tutte le schifette che c'aveva Perché altrimenti l'effetto fluido non c'era Poi da anche in generale un bel aspetto al setup Cioè guardate adesso che è figo Che è più professionale insomma Guardo solamente capire a cosa serve questo foglietto qua Che c'era in una confezione Penso che c'era solamente la garanzia Ma ce l'ho, è un adesivo Raga, l'aukey fa degli adesivi a forma di chiave Devo metterlo da qualche parte Poi è molto carino perché guardate quanti dettagli Che ha tutti quanti i filetti elettrici Anche se non si chiamano così È molto bello Andrò a metterlo subito in mentre le altre cose inutili che ho Comunque nel mio stante si sta riempiendo piano piano di prodotti aukey Perché prima è arrivato il mouse Mi ha detto, ah ok, bello Il tappetino e c'è anche arrivato un'altra cosa Che vedrete in un prossimo video E potrebbe essere un prodotto molto interessante Dettaglio Raga, io vi ringrazio tantissimo per la visione Mi raccomando iscrivetevi al like e al commento E noi ci vediamo in un prossimo video Ciao! 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 Ciao!